Buonasera a tutti. Benvenuti qui al Palazzo del Governatore. Diamo avvio a questa seconda conferenza sui valori cristiani organizzata da Intesa San Martino, una realtà ormai attiva dal 2004 a Parma che si spende sulla promozione sociale e che dall'anno scorso ha deciso, con grande voglia, di investire su queste conferenze a sfondo cristiano. Siamo partiti con l'idea di organizzare queste conferenze sul tema dei valori cristiani spinti dalla continua evoluzione della società, il cui fondamento è storicamente cristiano e l'evoluzione che oggi sostanzialmente si presenta è dettata comunque da un continuo attacco, passatemi il termine, da queste culture comunque lontane che sostanzialmente invadono il territorio storicamente cristiano e che in qualche modo reclamano diritti. Ovviamente ci premeva a spenderci per questi temi perché sicuramente Intesa San Martino da statuto è cristiana, ancor più perché è fieri di esserlo e soprattutto contrari di fondo all'agnosticismo e allo scetticismo che oggi contraddistingue la nostra società e soprattutto fra i giovani, che ovviamente sicuramente è un aspetto molto più forte. Abbiamo colto quest'anno, come lo scorso anno, diciamo l'idea, sperando di aver fatto centro, di alcuni saggi autori. L'anno scorso abbiamo avuto l'onore di ospitare Marcello Pera, presidente merito del Senato, che ha scritto un punto il libro Diritti umani e cristianesimo, quindi il confronto fra i diritti umani e la Chiesa. Oggi abbiamo colto il libro, secondo me ben scritto, da Sua Eccellenza Monsignor Mario Toso, che questa sera avrà modo di spendere e di presentare direttamente di persone questo libro, che appunto è incentrato sul tema della democrazia. Una democrazia che viene vista non solo dal punto di vista etimologico, quindi storico, e quindi fino all'evoluzione dello stesso concetto ad arrivare a una democrazia inclusiva, alla democrazia odierna. Il tutto rapportato all'impegno di noi cristiani, per formazione, sul territorio. Allora, in questo io ringrazio sin da subito tutti coloro che ci hanno sostenuto, quindi tutti i nostri partner. Su tutti ringrazio il professor Gino Gandolfi, presidente della prestigiosa fondazione bancaria Fondazione Cariparma, appunto, che non è la prima volta che sposa le nostre cause, che non soltanto con il padrocinio, ma anche con la presenza fisica, ci sostiene, ed è qui con noi. Per cui io lo invito per un saluto e lo ringrazio sin da subito per essere qui. Grazie, professore. Buonasera. Desidero innanzitutto ringraziare chi ha organizzato questo interessantissimo convegno. Chiedo scusa per la voce, sono un po' affano. Ringrazio di cuore gli illustri relatori per il tempo che ci doneranno e sono certo per i preziosi spunti di riflessione che ci porteranno questa sera. Io non nascondo un certo imbarazzo, perché non credo di avere una formazione adeguata per portare un saluto che non sia di semplice circostanza. Proverò comunque a condividere con voi una riflessione. Come diceva il Presidente, che mi ha preceduto, purtroppo la nostra società è oggettivamente malata. Non passa giorno che i giornali, le televisioni, anche il cinema, ci bombardino di immagini violente in cui la prevaricazione, la forza, la cattiveria e l'egoismo hanno la voce del padrone. Penso, io sono padre, penso anche agli adolescenti, penso ai bambini. Ecco, purtroppo, anche qui la cronaca è ricca di episodi di giovani maleducati, arroganti, talvolta violenti. Ora, sarò forse un po' severo in quello che sto per dire, se questo è mi scuso, credo che qui la colpa sia anche nostra, nostra di genitori, di educatori. Vedete, io mentre venevo qui pensavo a cosa poter dire e la mente è corsa ai miei nonni, in particolar modo a una nonna, la nonna materna, che ho avuto il piacere di conoscere più a lungo, La nonna era del 1899, quella che è stata definita la classe di ferro, e lo era. Era una donna molto forte, umile al tempo stesso, era una donna severa ma dolce, era una donna povera ma generosa. Ha vissuto nella povertà, ha cresciuto tre figli, è morta non lasciando nulla in apparenza, in realtà ha lasciato ai figli, a noi nipoti, un vero tesoro, che sono i valori cristiani di cui parlavamo prima. Ecco, torno quindi al tema dei giovani. Mia nonna è stata provata tanto, ha perso il padre che era giovanissima, è rimasta vedova in me giovane purtroppo perché ha vissuto a cavallo delle due guerre, addirittura ha perso un figlio. Eppure io e mia nonno ho sempre visto la serenità. A distanza di anni ho capito la risposta. Mia nonna è stata colei che ha costruito la casa sulla roccia. Ecco, questa è la sintesi che io a distanza di anni sono riuscito a trovare come spiegazione. Bene, io vorrei arrivare alle conclusioni, ma tornerei sul tema della serenità. Ecco, mia nonna era una donna serena e con l'esempio ha trasmesso a noi i valori cristiani. Io spero nella mia minima modestia, a parte, insomma, di poter fare con i miei figli. E qui spero di non sbagliare nella citazione, non è certamente letterale, ma Don Luciano è stato mio parroco. Io ricordo durante un'omelia, ed era commento della trasfigurazione di Gesù Cristo, se non cito bene mi scuso Don Luciano, io spero di aver inteso il messaggio. Bene, Don Luciano ci disse, vedete oggi molti di noi, molte persone, molti giovani, non vanno a cercare la luce verso il monte Tavor, ma spesso fanno ricorso al monte Tavor. Ora, era una provocazione, io l'avevo intesa in tal senso, nulla contro le case farmaceutiche che sono fondamentali, ci mancherebbe altro, ma era una provocazione vera, forte. Cioè, in altri termini, siamo forse fragili, siamo tutti fragili, proprio perché non abbiamo costruito la casa sulla roccia. Ecco, io l'ho intesa così. Ecco allora che io chiudo questo mio breve saluto, dicendo che probabilmente, perché questa non sia retorica, tutti noi, in famiglia, sul lavoro, nei momenti di svago, non si debba perdere l'occasione per contribuire a trasmettere i veri valori cristiani che sono le nostre radici. Ecco, io mi auguro di fare questo in prima persona con i miei familiari, ecco, mi auguro che questo sia un pochettino il messaggio che io mi sento di trasmettere. Ora, io smetto, perché sennò rischio di sottrarre troppo tempo, rinnovo i ringraziamenti e sono davvero curioso di apprendere e di imparare questa sera. Grazie. Grazie a Professor Gandolfi, Presidente della Fondazione Cariparma. Il libro di cui oggi appunto siamo qui a presentare, Per una nuova democrazia, parte con un'introduzione di questo tipo che mi ha colpito molto e che vorrei citare. La democrazia non è mai una conquista definitiva, permane sempre l'esigenza di darle un'anima e un corpo nuovi. Essa va continuamente legittimata, offrendole un ambiente che la nutra e la rivitalizzi. E con queste parole appunto che diamo il via a questa conferenza, ricordando innanzitutto, o sin da subito, che il libro per una nuova democrazia è in vendita in fondo, per cui chiunque volesse o fosse interessato ad acquistarlo può farlo, e dopo sua eccellenza ha dato la disponibilità a firmare, come una rock star, tutte le copie battute a parte. Iniziamo subito con le presentazioni. Ringrazio da subito i nostri relatori, alcuni dei quali hanno dovuto fare diversi chilometri per essere qui, per cui doppiamente grazie anche per l'impegno che questo ha comportato. Partendo dalla mia sinistra, do subito il benvenuto a Don Luciano Genovesi, citato prima dal Professor Gandolfi, che appunto nasce avvocato, poi diviene prelato, parroco, moderatore di curia, cancellere Vescovile, vicario giudiziaro del Tribunale Ecclesiastico di Ocesano, che ringrazio anche per la stima e l'amicizia che mi unisce a lui. A seguire, Sua Eccellenza Monsignor Mario Toso, Vescovo di Faenza Modigliana, già segretario del Dicastero Pontificio per la Giustizia e la Pace, nonché rettore merito dell'Università Salesiana di Roma. Grazie ancora, Sua Eccellenza. A seguire, l'Onorevole Dottor Alfredo Mantovano, magistrato con all'attivo diversi lustri da politico e sicuramente una vita spesa nelle istituzioni, forte del suo credo, questo è innegabile. E ancora a seguire il Professor Lorenzo Ornaghi, rettore merito dell'Università Cattolica per molti anni, io stesso mi sono laureato lì e quindi ho avuto la fortuna di averlo come rettore, lei non si ricorderà sicuramente, che comunque ha avuto anche l'onore di rivestire il ruolo di Ministro della Cultura nei passati governi. Ringrazio quindi sin da subito tutti i nostri partner che ci hanno assistito, partendo dalla Fondazione dei Gasperi di Roma, portando appunto il saluto del suo segretario Lorenzo Malagola, il Senato della Repubblica per mano del Presidente Alberti Casellati, la già citata Fondazione Cari Parma, le diogisi di Parma e Faenza, e ovviamente l'emittente, che ringraziamo e che vedete qui all'opera con i suoi volontari operatori, Giovanni Paolo Tivu. Per cui diamo avvia subito con un'introduzione che è affidata a Don Luciano Genovesi. Grazie ancora e buona conferenza. Sì? Sì, sì, ok, acceso. Grazie di questa opportunità che mi è stata data. Rivolgo a ciascuno di voi un fervoroso e cordiale saluto a tutti voi intervenuti questa sera a questo importante evento organizzato dall'Associazione Intesa San Martino. In particolare saluto gli illustri e autorevolissimi relatori, Sua Eccellenza Reverendissima, Monsignor Toso, il chiarissimo Professore Lorenzo Ornaghi, l'Onorevole Alfredo Mantovano, e il moderatore amico Andrea Coppola, che ringrazio anche per la sua dedizione nell'organizzare questi importanti eventi di confronto e di proposta culturale ma anche valoriale. Il mio intervento sarà estremamente breve, solo introduttivo. Do come chiave di lettura quello che mi ha confermato, ecco, nella lettura di questo interessantissimo testo di Monsignor Toso, per una nuova democrazia, ecco la luce della crisi che stiamo vivendo, che è stata anche sottolineata dall'amico Professor Gandolfi, e la verità di quello che la Chiesa propone, cioè la legge naturale come antidoto a questa crisi e come fondamento solido a una vera democrazia, nel vero senso compiuto della parola. Ad oltre 70 anni dalla fine del secondo conflitto mondiale, tra innumerevoli e repentini e non sempre positivi cambiamenti socio-politici, che affondano le loro radici filosofiche a secoli or sono, sarebbe molto lungo stare qui a riprendere le file di questo discorso, comunque estremamente interessante per comprendere perché siamo arrivati a questa situazione, che non è tutta negativa, ci mancherebbe però, che mostra non poche problematiche. Credo sia percezione comune che stiamo affrontando una profonda crisi che ha investito trasversalmente tutti i componenti del tessuto sociale. Permettete di dire però, crisi morale e spirituale, prima che politica ed economica. Ecco allora la preziosa riflessione di Monsignor Toso, che con estrema lucidità, davvero consiglio e caldeggio la lettura del testo, analizza le cause di questa crisi e ne delinea le possibili soluzioni a livello politico alla luce della dottrina sociale della Chiesa, questa sconosciuta. Il mio breve intervento, senza nessuna pretesa di esaustività, si vorrebbe concentrare su un rapido tratteggio della situazione attuale, dopo la caduta delle ideologie, in un contesto di postmodernità o di società liquida, che dir si voglia. Per dirla con il grande pontefice Benedetto XVI, credo che il grande male che affligge la società di oggi, con ricadute negative di tutta evidenza, sia il relativismo etico. E sostanzialmente ha gettato il consenso sociale in un grande caos, dove chi urla di più e promette soluzioni immediate e felicità effimere e mirabolanti sembra riscuotere immediato plauso e consenso. Relativismo etico che ha causato un preoccupante deterioramento del concetto di libertà, che oggi si pretende absoluta, cioè indipendente da qualsiasi sistema valoriale, soprattutto religioso e direi cattolico in particolare. Il grande nemico della libertà, a parere di tanti. Il grave equivoco, o meglio la trappola in cui è caduto l'Occidente, ritengo possa essere sintetizzata plasticamente dallo slogan di un noto gestore telefonico, che anni addietro ci martellò sui mass media con questo slogan, tutto ruota intorno a te. oppure dall'altro opinabile slogan di un'associazione atea militante italiana che ha cancellato la lettera D dalla parola Dio, cosicché restasse solo il pronome personale io. Questo ci dice la cesura di un legame vitale senza il quale l'uomo perde la sua umanità. Ed ecco allora la domanda angosciata del creatore a Caino che hai fatto. Un uomo autonomo insomma che gestisse in maniera utilitaristica vita e relazioni solo per soddisfare un contraddittorio universo di emozioni che possono portarlo all'autodistruzione. E non c'è bisogno di fare grossi esempi. Nella mia esperienza di sacerdote sono stato tre anni che cappellano in una clinica psichiatrica della provincia e vi posso assicurare che tutte le settimane abbiamo i nuovi ingressi di gente illusa dai modelli che sono presentati come conquiste di libertà. A mio parere anche la politica ha fatto sua questa prospettiva non per tutti ma in generale. Lascio ancora spazio all'illuminante riflessione di Benedetto XVI che insieme ad altri papi ha analizzato partitamente cause ed effetti della crisi della democrazia. Secondo la sua riflessione l'antidoto della crisi dei sistemi politici sta nella riscoperta e nella messa al centro della legislazione la legge naturale. Secondo la sua riflessione la legge naturale dovrebbe rappresentare quel fecondo terreno di incontro tra posizioni religiose e laiche non laiciste c'è una differenza enorme abissale in un sano dialogo che parte dal corretto uso della ragione pensate la chiesa sostiene l'uso della ragione e molti non ci credono ma brevemente ascoltiamo le sue stesse parole un discorso che ho tratto mi ha colpito l'ho voluto riportare il discorso che Benedetto XVI ha fatto la commissione teologica internazionale nel 2007 il catechismo della chiesa cattolica riassume bene il contenuto centrale della dottrina sulla legge naturale rilevando che essa indica le norme prime ed essenziali che regolano la vita morale ha come perno l'aspirazione e la sottomissione a dio fonte e giudice di ogni bene e altri sei il senso dell'altro come uguale a se stesso nei suoi precetti principali essa è esposta nel decalogo questa legge è chiamata naturale non in rapporto alla natura degli esseri irrazionali ma perché la ragione che la promulga è propria della natura umana in questa dottrina si raggiungono due finalità essenziali da una parte si comprende che il contenuto etico della fede cristiana non costituisce un'imposizione dettata dall'esterno che è la credenza comune alla coscienza dell'uomo ma una norma che ha il suo fondamento nella stessa natura umana dall'altra partendo dalla legge naturale di per sé accessibile ad ogni creatura razionale ecco il corretto uso della ragione si pone con essa la base per entrare in dialogo con tutti gli uomini di buona volontà e più in generale con la società civile e secolare questo è stato il grande sforzo di Benedetto XVI ma di tutti i papi invece dell'ultimo secolo proprio motivo dell'influsso di fattori di ordine culturale ideologico la società civile e secolare oggi si trova in una situazione di smarrimento e di confusione si è perduta l'evidenza originaria dei fondamenti dell'essere umano e del suo agire etico e la dottrina della legge morale naturale si scontra con altre concezioni che ne sono la diretta negazione pensiamo all'aborto al divorzio all'eutanasia all'attacco frontale alla famiglia naturale attraverso l'ideologia del gender e la propaganda omosessualista alla denegata libertà di educazione e di obiezione di coscienza solo per citare le ferite tra le tante più evidenti inferte alla società tutto ciò ha enormi e gravi conseguenze nell'ordine civile e sociale presso non pochi pensatori sembra oggi dominare una concezione positivistica del diritto secondo costoro l'umanità e la società o di fatto la maggioranza dei cittadini diventa la fonte ultima della legge civile e abbiamo assistito anche negli ultimi episodi che hanno riguardato la Repubblica Italiana il problema che si pone non è quindi la ricerca del bene ma quella del potere o piuttosto dell'equilibrio dei poteri alla radice di questa tendenza vi è il relativismo etico in cui alcuni vedono addirittura una delle condizioni principali della democrazia notate la contraddizione no? perché il relativismo garantirebbe la tolleranza e il rispetto reciproco delle persone aggiungo personalmente cosa palesemente falsa se pensiamo anche soltanto alle negazioni della libertà religiosa in Canada Francia Spagna Irlanda fermandoci solo ai paesi di indubbia tradizione occidentale e ex cattolica ma se fosse così la maggioranza di un momento diventerebbe l'ultima fonte del diritto pericolosa questa deriva è molto pericolosa la storia dimostra con grande chiarezza che le maggioranze possono sbagliare la vera razionalità non è garantita dal consenso di un gran numero ma solo dalla trasparenza della ragione umana alla ragione creatrice e dall'ascolto comune di questa fonte della nostra razionalità quando sono in gioco le esigenze fondamentali della dignità della persona umana della sua vita dell'istituzione familiare dell'equità dell'ordinamento sociale cioè i diritti fondamentali dell'uomo nessuna legge fatta degli uomini può sovvertire la norma scritta dal creatore nel cuore dell'uomo senza che la società stessa venga drammaticamente colpita in ciò che costituisce la sua base irrinunciabile piccola parentesi ad oggi dal 1978 mancano all'appello 6 milioni di italiani 6 milioni di italiani a 6 milioni di italiani non è stato permesso di nascere adesso non diamo giudizi morali perché peccato di aborto un signore mi può correggere è la peggiore e più tremenda confessione che un sacerdote possa ascoltare quindi nessuno può sottrarsi a questo richiamo contro questo oscuramento che la crisi della civiltà umana prima ancora che cristiana occorre mobilitare tutte le coscienze degli uomini di buona volontà laici o anche appartinenti a religioni diverse dal cristianesimo perché insieme e in modo fattivo si impegnino a creare nella cultura e nella società civile politica le condizioni necessarie per una piena consapevolezza del valore inalienabile della legge morale naturale dal rispetto di essa infatti dipende l'avanzamento dei singoli e della società sulla strada dell'autentico progresso in conformità con la retta ragione che è partecipazione alla ragione eterna di Dio credo 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 che si possa concordare con questa analisi assai profonda e attuale con l'incontro di stasera vogliamo anche noi essere quelle persone di buona volontà che intendono impegnarsi ad iniziare un serio dialogo ad ogni livello a noi consentito per riproporre questa base comune rappresentata dalla legge morale naturale e come cattolici non possiamo abdicare da questo compito che il magistero ci assegna per edificare la civitas hominum la posta in gioco è molto alta e non è solo la nostra irrilevanza politica che credo ormai sia i minimi storici anche con il nostro doveroso mea culpa ma il futuro che consegneremo alle generazioni venture stasera poniamo una prima importante pietra lascio ora la parola agli illustri relatori che ci accompagneranno in questa affascinante riflessione grazie a tutti per la vostra cortese attenzione grazie a don luciano genovesi per passare subito la parola a sua eccellenza monsignor mario toso ho avuto modo di leggere con grande interesse e meticolosità il suo libro un libro che sicuramente spazia dal concetto di democrazia alla democrazia inclusiva considerando anche l'importante antologia che sul fondo appunto integra il testo da lui prodotto e per cui lo invito ad affrontare la questione della crisi dei valori dinanzi soprattutto al forte individualismo che in questi tempi appunto come anche sottolineato risalta moltissimo nella società attuale quindi benvenuto di nuovo su eccellenza grazie di essere qui grazie per l'invito grazie alla fondazione grazie al presidente a tutti coloro che hanno voluto questo momento di riflessione vorrebbe essere proprio un momento di riflessione pacata e nello stesso tempo anche di provocazione in senso positivo perché si tratta alle volte anche di insomma superare un certo assoppimento o anche un certo adattamento alla situazione corrente e questo a partire non dalle idee peregrine di un vescovo o di chissà chi ma a partire dalla dottrina sociale della chiesa il testo che voi avete di fronte in realtà si riferisce proprio a questo segreto ben conservato che è la dottrina sociale della chiesa così lo chiamò un professore australiano dice la dottrina sociale della chiesa per i cattolici è un segreto ben conservato si vede che le devono tenerlo ben nascosto perché sennò turberebbe la loro esistenza e i loro sonni in realtà io mi permetto di fare una battuta dopo l'intervento tutto così bello così ben articolato approfondito di Monsignor Luciano consentite a me di essere un po' più diremo anzi il suo intervento mi consente di essere un po' più libero di andare avanti per tocchi diremmo per suggestioni e questo il momento per dire anche che la dottrina sociale della chiesa segreto così ben conservato se uno lo conoscesse bene si accorgerebbe che nell'attuale ambito culturale multiculturale ecco offre una fonte di ispirazione anche di integrità di pensiero che non si trova nelle altre culture e che a mio modo di vedere potrebbe essere definito rivoluzionario da un punto di vista morale e spirituale lo è effettivamente e di conseguenza anche dal punto di vista politico ed economico un pensiero sapienziale che offre i pilastri fondamentali per una nuova progettualità che poi deve essere elaborata dai credenti in modo particolare a questo proposito cito Giuseppe Lazzati che con riferimento alla dottrina sociale della chiesa e ai cattolici soleva ripetere che purtroppo i cattolici pur avendo la dottrina sociale della chiesa una fonte di ispirazione alta non appaiono sovente in grado di tradurla in adeguato linguaggio politico questo diceva Giuseppe Lazzati e credo che quello che diceva lui a suo tempo lo si possa ripetere tranquillamente anche oggi a parte il fatto che la dottrina sociale della chiesa anche dalla gran parte delle associazioni di movimenti di ispirazione cristiano cattolici è pressoché dimenticata ce l'hanno scritta come punto di riferimento nel loro statuto ma per la formazione di nuovi quadri o peraltro anche per ispirarsi per le scelte nel sociale e nella politica rimane piuttosto sconosciuta la dottrina sociale della chiesa si tenga presente che alcune indagini infatti a suo tempo nella mia università Pontificio Università Salesiana ecco a proposito della conoscenza della dottrina sociale della chiesa presso i catechisti e le catechiste è risultato questo che l'ottanta per cento dei catechisti e delle catechiste ignorano ignoravano spero che le cose siano cambiate insomma ultimamente la dottrina sociale della chiesa e questo cosa vuol dire che una educazione alla cosiddetta fede adulta è di là da venire di là da venire e noi vorremmo avere dei cristiani adulti in campo sociale ne abbiamo certamente ecco non bisogna essere pessimisti ma se dovessimo dire che noi abbiamo nuove generazioni che prorompono e che scalpitiano per impegnarci nella politica possiamo dire che non è così non è così perché anche recente indagine fatte nella mia diocesi in vista del sinodo dei giovani noi facciamo anche un sinodo locale diocesano risulta che l'attenzione a di là dell'attenzione del bene che si fa nel volontariato l'attenzione al bene comune alla politica è l'ultima della lista delle attenzioni l'ultima che vuol dire che noi stiamo allevando generazioni per le quali ecco interessa quel bene che si può fare così nel volontariato a tu per tu ecco però il bene diremmo la solidarietà lunga ecco questo interessa di meno quindi interessa di meno il bene comune il bene di tutti e c'è da dubitare allora che avvenendo questo prevalga nell'impegno anche nei confronti degli altri la ricerca del benessere individuale benessere spirituale individuale più che la ricerca del bene comune un bene universale un bene oggettivo un bene comunitario e così via e tutti questi aspetti dovrebbero farci riflettere e dico che questo avviene anche perché nelle nostre comunità abbiamo smesso e anche nelle nostre associazioni di insegnare che cos'è la dottrina sociale della Chiesa la formazione e l'impegno sociale e politico lo appaltiamo ad altri non è più compito delle comunità o almeno solo alcune comunità compiono queste cose da ogni buon conto veniamo al testo che voi avete di fronte è un testo che non ha la pretesa di dirvi segliete questo partito quest'altro o quest'altro no toglietevelo dalla testa noi non siamo qui questa sera per fare questi discorsi noi siamo qui per fare dei discorsi di carattere fondativo che vogliono andare alla ricerca delle realtà basiche su cui costruire il nuovo di domani perché bisogna impiegare tempo noi oggi siamo abituati a volere le ricette del subito tutto adesso ma la vita non è solo adesso ecco senza spazi senza tempi come ci sollecite una fare i masmide i mezzi diremmo virtuali di oggi ci vuole tempo per preparare una nuova generazione di cattolici che magari desiderano impegnarsi in politica ci vuole tempo supposto che vi siano perché come vi ho detto i giovani non è che mostrano molta disponibilità e allora su che cosa diremmo dobbiamo far leva noi per formare queste nuove generazioni e anche per rinnovare profondamente la democrazia non per fare un semplice diremmo ritocco estetico o di una regola procedurale ecco che sarebbe già qualcosa se ben fatta ma noi dobbiamo andare proprio alle fondamenta della democrazia perché se queste fondamenta crollano crollano l'ideale della democrazia che come è scritto all'inizio del volume è una realtà che va sempre completata ricostruita riveduta c'è sempre un futuro davanti della democrazia ricordo qui il volume di Norberto Bobbio il futuro della democrazia e bisogna sempre costruirla bisogna sempre riappropriarci in un certo qual modo della democrazia ebbene tre sono i pilastri fondamentali che io tocco questa sera per dire che la democrazia è in crisi non si tratta come è stato ben detto da Massimo Luciano di una crisi prevalentemente politica procedurale economica certamente si tratta anche di questo è evidente ma si tratta prima di tutto di una crisi etica spirituale e per parlare di questa crisi mi riferiscono a tre fondamenti della democrazia come stato di libertà stato di diritto stato sociale stato di libertà ecco la democrazia ecco nel mondo liberale è sorta proprio volendo essere custodita da uno stato liberale e da uno stato di libertà che realizzava la libertà dalla invasione dell'intervento dello stato che conservava l'autonomia delle persone e che appunto non solo tutelava la proprietà dei singoli ma anche voleva che tutti gradualmente avessero una qualche proprietà almeno questo secondo la prospettiva dello stato sociale democratico di ispirazione cristiana cosa che però verrà un po' più avanti se noi notiamo bene anche quello che sta avvenendo nella nostra società facendo riferimento a eventi di qualche anno fa pensate a Charlie Hebdo al tipo al tipo di libertà che si voleva difendere difendendo quei poveri disgraziati che sono stati trucidati ma in realtà si voleva difendere un tipo di libertà senza limiti si può fare si può dire qualsiasi cosa senza rispetto per i diritti altrui una libertà senza limiti e facevano tenerezza quei capi di stato appresi a braccetto che andavano per le piazze per le vie principali di Parigi a difendere questo concetto di libertà io sono Charlie Hebdo mi venivano dei dubbi una democrazia si regge su un concetto di libertà senza limiti non mi pare una democrazia tra l'altro ha il compito di organizzare la vita politica in vista del bene comune e del bene di tutti e quindi una libertà che si mette a servizio del vero dei diritti degli altri del bene di tutti guardate bene che se voi interpellate i giovani io vengo dal mondo salesiano ci sono stato in mezzo ai giovani per parecchio tempo e adesso come vescovo amo stare in mezzo ai giovani e beh se voi li interpellate sul concetto di libertà rimarrete a bocca aperta loro sono convinti che la libertà vera sia proprio questa quella senza limiti cioè per loro non esiste il concetto di una libertà condizionata non esiste che poi la libertà di ogni creatura umana proprio perché creatura e la nostra libertà non è incondizionata è condizionata ma questi concetti elementari che sono a fondamento della nostra democrazia nelle nuove generazioni sono pressoché spariti e questo deve farci pensare ecco perché dobbiamo lavorare seriamente per rifondare il discorso della vita democratica della democrazia sono dei pilastri saldi la libertà non è neanche quella che pensava John Stuart Mill nel suo saggio sulla libertà la libertà è fare tutto ciò che si crede purché non si leda il diritto altrui ha già un progresso rispetto al concetto di libertà senza limiti ma non è ancora un concetto sufficiente per vivere in una società politica in una società politica non si deve solo cercare di realizzare la propria libertà di spezzare le catene che ci tengono schiavi individualmente ma in una società politica ci si deve impegnare anche per realizzare la libertà altrui quindi la libertà che si deve realizzare nella democrazia nella società politica è sempre una libertà per la verità per il dono per la solidarietà nella cooperazione e nella realizzazione del bene comune questa è la libertà di una democrazia quindi se noi vogliamo riappropriarci della democrazia rispetto alla deriva che sta assumendo dobbiamo incominciare a rivedere un po' il nostro valore della libertà anche la rivoluzione francese parlava della libertà dell'uguaglianza e della fraternità ma ne parlava in un senso diverso da come ne parlano i papi e da come anche ne parlava Gesù Cristo la verità vi farà liberi quindi la libertà per renderci liberi deve legarsi alla verità la verità del bene bene oggettivo e con questo mi collego all'altro pilastro lo stato di diritto oggi noi notiamo come lo stato di diritto stia sgrettolandosi un poco alla volta e lo si vede anche perché con riferimento alla nostra costituzione alcuni diritti sono bypassati sono sottacciuti sono dimenticati e alla lista dei diritti ecco si intende a aggiungere anche una lista di presunti diritti arbitrari o voluttuari così li definisce Benedetto XVI nella Caritas Inveritata e questo perché succede? succede perché c'è stata una positivizzazione del diritto cioè il diritto ha perso i suoi fondamenti è considerato frutto solo di una maggioranza che lo approva in Parlamento certo quella è una fonte di diritto ma non è la fonte ultima del diritto come è stato detto bene prima la fonte ultima del diritto è la coscienza morale dove si scopre la legge morale naturale , fai il bene ed evita il male fai gli altri quello che vuoi sia fatto a te ma questi principi fondamentali della morale naturale universale cioè principi che sono in tutte le coscienze comprese quelle dei buddhisti dei musulmani e così via sono principi che noi ancora onoriamo e pensiamo che siano realmente il fondamento di un diritto solido perché il problema oggi è proprio quello di ricercare una misura di verità e di bene incontrovertibile perché se non c'è questa misura il diritto non ha un fondamento certo e quando non c'è un fondamento certo può essere vero tutto il contrario di tutto e questo è un altro punto serio su cui insiste sapete su che cosa fonda il diritto benedetto XVI che è stato citato lo fonda su questo su una misura di verità di bene e di vero incontrovertibile che si trova in quello spazio pubblico dove le esperienze sociali e religiose esperienze culturali possono vivere liberamente quindi guai a chi uccide la libertà religiosa perché si taglia le gambe e si taglia la libertà ecco anche in altri sensi non solo dal punto di vista religioso e qui appunto viene a maturare un etos viene a maturare il senso di una vita buona e così via su cui poggia poi qualsiasi discorso intorno al diritto il fatto si è che se il diritto si poggia anche sull'arbitrio non interessa più ricercare una vita buona ma è così che noi dobbiamo procedere oggi se vogliamo salvare la democrazia e lo stato di diritto così il terzo pilastro della democrazia è rappresentato dallo stato sociale che è una conquista del secolo scorso per realizzare una democrazia sostanziale e compiuta perché una democrazia compiuta non si ha solo quando si ha il diritto di voto il diritto di espressione e così via si ha anche quando si hanno i diritti di lavoro oltre che è il dovere di lavorare ma cosa succede oggi soprattutto dopo la crisi dal 2007 2008 in avanti che il capitalismo quello che conoscevamo ecco si è trasformato in capitalismo finanziario che assolutizza il profitto a brevissimo termine e in questa maniera si è costruito come un capitalismo che anziché favorire l'economia produttiva la distrugge si è costituito in capitalismo che anziché realizzare la responsabilità sociale realizza solo il più alto tasso di profitto per chi gestisce determinate situazioni evidentemente in questa maniera non si può andare avanti lo abbiamo sperimentato ecco gli stessi le grandi banche nordamericane che sono andate in fallimento ecco hanno poi provocato fallimento dal punto di vista finanziario anche il fallimento dell'economia reale in tante parti del mondo e non è che noi nonostante quello che ci diciamo ne siamo usciti noi stiamo ancora boccheggiando stiamo ancora boccheggiando non riusciamo ancora avere un credito a disposizione dei giovani se hanno voglia di farsi un'impresa partire con un'iniziativa imprenditoriale difficilmente questo lo dico sapendo che qualcuno mi può smentire è vero che qualcosa è cambiato ma badate che le cose devono cambiare molto molto di più così non si è fatta una seria riforma del sistema finanziario e monetario internazionale i nostri politici difendono la sovranità guardate che noi di sovranità a livello finanziario ne abbiamo ben poca perché ci comandano i potentati finanziari internazionali i quali fanno anche l'ordine del giorno dei nostri parlamenti e finché non si interviene a separare l'economia produttiva dell'economia finanziaria speculativa finché non si arriva a tassare le transazioni a grandissima velocità con un minimo per trovare e badate bene che contrarie a questo sono stati come l'Inghilterra che però la tassazione praticamente ce l'ha però noi vogliamo essere come l'Inghilterra ma sai veramente com'è l'Inghilterra a proposito di questo capitolo allora anche con riferimento alla forma di alleanza tra capitalismo ed economia e economia reale dobbiamo un po' rivedere le cose e dobbiamo ritornare a un capitalismo che serve l'economia reale che serve diremmo le piccole e medie imprese che serve il territorio le amministrazioni comunali è a servizio e quindi vive una responsabilità sociale e i mercati devono essere liberi trasparenti non oligarchici ma democratici i nostri mercati insomma finanziari e monetari e però anche su questo dobbiamo dircelo non è che ci muoviamo con grande speditezza e con coraggio perché voi tutti avrete sentito parlare come me a meno che non siamo tutti diventati arteriosclerotici immediatamente ecco della costituzione di una bad bank per raccogliere i titoli spazzatura l'avete mai sentita dire che è nata sentito dire che è nata non ancora e allora dov'è la volontà di cambiare quelle cose che ci condizionano nello sviluppo nella crescita e noi consideriamo crescita il fatto che sono aumentati gli occupati che però insomma sono occupati nel precariato ma questa non è reale crescita è piccola crescita allora se ben vi accorgete parlando di valori cristiani se ci rifacciamo alla dottrina sociale della chiesa con riferimento alla libertà prendiamo in considerazione il concetto di libertà che ci offre la dottrina sociale della chiesa la libertà non è indifferenza nei confronti del bene come ci vogliono insegnare non è indifferenza la nostra libertà non è indifferente nei confronti del vero del bene di Dio anzi all'interno di essa scorre un dinamismo che fa sì che sia inclinata verso il vero il bene Dio e quindi ha in sé delle indicazioni ben precise si tratta educando ecco la parola chiame educando alla libertà matura far sì che la libertà si leghi al vero e al bene a Dio e lo persegua con virtù un altro termine ormai scomparso nel nostro panorama e così con riferimento allo stato di diritto se noi non coltiviamo i valori del bene e del vero ma ci affidiamo a un relativismo assoluto un relativismo relativo va anche bene ma un relativismo assoluto è finita perché dico un relativismo relativo va bene perché io su una cosa posso avere me lo insegnava Sofia Vanni Rovighi il professore possiamo avere tanti blick tanti punti di vista e l'uno è relativo però va messo insieme a tutti gli altri allora mettendo insieme tutti questi punti di vista relativi io riesco ad avere una verità il più possibile integrale ma la lì ma appunto una verità concepita in maniera relativa e in senso assoluto vuol dire che non è una verità ad ogni buon conto dobbiamo coltivare il bene e il vero e dobbiamo ricercarli spassionatamente guardando dentro l'uomo facendoci aiutare da Gesù Cristo che rafforza la capacità di vero di bene e di Dio di ogni uomo è venuto per rafforzare questa capacità con la sua incarnazione non è venuto a fare una passaggiata e così con riferimento allo stato sociale e pensate appunto al grande valore della solidarietà che nel mondo cristiano ecco quasi quasi entra in simbiosi con la carità caritas e se voi prendete la solicitudo rei socialis ecco la solidarietà è interpretata così come qualcosa che è animato dalla carità ebbene io mi fermo qui perché c'è anche l'altra domanda ma grazie su eccellenza io l'altra domanda me la riservavo per dopo e può passare il microfono all'onorevole Alfredo Mantovano persona che posso parlare lì sì 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 assolutamente che ovviamente ha avuto modo di spendersi dal punto di vista politico quindi in istituzioni importanti per moltissimi anni e che giustamente ci darà un concetto di democrazia anche il rapporto appunto alla criticità che sono emerse di recente con la questione per esempio dell'Europa per chi la ama e per chi invece la contesta sino ad arrivare al concetto o a quello che noi stiamo vivendo adesso cioè il tema del populismo benvenuto onorevole prego grazie grazie al dottor Coppola per l'indito saluto tutti voi in modo particolare saluto Monsignor Tosso il vicario della diocesi e il professor Onnaghi entro subito nel merito del convegno che ruota come ruota questo libro che viene presentato questa sera attorno ad un termine chiave che è il termine democrazia che è un termine molto usato e come accade per tutte le parole molto usate si inflaziona perde valore non si identifica nel suo significato autentico e scopo del bel libro di Monsignor Toso è anche in qualche misura recuperare questo senso del termine alla ricerca del quale potremmo andare alle fonti della civiltà occidentale se chiedessimo ad Aristotele che cosa deve intendersi per democrazia ci risponderebbe rinviando al libro quarto della sua politica democrazia e la partecipazione degli uomini liberi alle scelte della polis che è un termine che esclude molto più è una definizione che esclude molto più che includere perché i numeri sono veramente stretti sono soltanto gli uomini sono soltanto gli uomini liberi e ad Atene ce n'erano di non liberi e il confine è quello della polis non si fa riferimento probabilmente perché non esistevano ancora queste categorie alla regione alla nazione e a realtà ancora superiori questo solo per fare un cenno alle difficoltà di dare una definizione Atene è troppo distante storicamente facciamo un salto a ieri l'altro a San Giovanni Paolo II che nella centesimus annus di cui sono riportati ampi stralci nel libro il libro è bello perché dopo la prima parte dell'autore c'è un'ampia antologia delle parti più significative di dottrina sociale della Chiesa degli ultimi tre pontefici e viene citata anche la centesimus annus 1991 in occasione del centenario del Rerum Novarm al cui interno San Giovanni Paolo II richiama l'attenzione sul fatto che lo stato totalitario non è necessariamente quello dove non si vota può essere totalitario anche uno stato in cui si vota un giorno sì e l'altro pure ma che nega i diritti fondamentali soprattutto nega la verità sull'uomo si dirà ma questa è teoria no questa è realtà poi nelle ricadute concrete non solo il termine è inflazionato è la sostanza della democrazia che oggi non gode di buona salute e veniamo proprio all'oggi osserviamo tanto per fare un esempio il procedimento di formazione delle norme che regolano la nostra vita quotidiana di larga parte di queste norme perché larga parte delle norme che disciplinano la nostra vita quotidiana come sappiamo bene viene approvata non dal Parlamento italiano ma è di fonte europea ci sono disposizioni europee che hanno efficacia diretta nel nostro ordinamento ci sono disposizioni che hanno efficacia mediata attraverso le leggi nazionali che le recepiscono ma in genere il recepimento ha un ambito di discrezionalità molto limitato le norme di fonte comunitaria che ripeto disciplinano la nostra vita molto più di quelle di fonte del Parlamento nazionale non vengono fuori dalla consultazione dei popoli degli stati europei e neanche dal voto di quel Parlamento europeo unica istituzione europea eletta le cui funzioni sono esclusivamente consultive oggi leggendo i giornali ascoltando il TG sembra che ieri il Parlamento europeo abbia deciso l'espulsione dell'Ungheria dall'Unione europea niente di più lontano dalla realtà quel voto ha deciso l'inizio di un procedimento molto lungo e complesso che sarà gestito interamente dalla Commissione europea che non è espressione di un voto idem per l'altra deliberazione di ieri del Parlamento europeo quella sul diritto d'autore comincia un lavoro della Commissione europea poi vediamo in che tipo di direttive si tratturrà ma se io da uomo libero per riprendere Aristotele non partecipo alla formazione di regole delle regole che disciplinano la mia vita e non mi partecipo neanche delegando col mio voto il Parlamento europeo che in realtà non conta nulla aumenta la distanza tra me e quella disciplina che pure mi riguarda le norme europee proprio perché elaborate in circoli ristretti i consigli dei ministri dell'Unione europea la Commissione europea nella sostanza provengono dalle burocrazie dei palazzi di Bruxelles a servizio delle istituzioni comunitarie a me è capitato per otto anni e mezzo di avere un ruolo di governo ovviamente in tempi diversi e di sostituire da sottosegretario i ministri dell'interno nelle riunioni dei consigli dei ministri di settore per ogni settore c'è un consiglio ad hoc l'Ecofin nei ministri dell'economia e il mio era si chiamava GAI GAI con la I non con la Y giustizia affari interni mi sono trovato all'inizio nel 2001 quando l'Unione era a 15 e già discutere in un tavolo a 15 non è la cosa più facile del mondo ma la mia esperienza si è conclusa nel 2011 quando il tavolo era a 28 e discutere a 28 avendo a disposizione ciascuno due minuti e col criterio dell'unanimità è qualcosa che comporta obbligatoriamente il fatto di approvare delle decisioni che prima sono state concordate dai tavoli tecnici cioè da tavoli che non hanno nessun livello di rappresentatività io non voglio generalizzare ma nella maggior parte dei casi questo spiega realmente le distanze dalle esigenze dei popoli spiega perché non ci siano nonostante il peso che questa voce ha per tutti i popoli europei norme chiare e soprattutto omogenee in materia di immigrazione solo parlare di riforma dal regime di Dublino fa scatenare il parapiglia e poi invece ci sono disposizioni dettagliatissime minuziose sulla misura che devono avere gli ortaggi e la frutta per essere immessi sul mercato con danno per l'agricoltura biologica che non avendo gli strumenti per stare nelle misure non può andare sul mercato non c'è una disciplina comune sul terrorismo nonostante abbia colpito il terrorismo tante volte l'Europa ma si è impiegato tanto impegno e con molta enfasi sul regime dell'orario solare o legale che è questione di rilievo strategico cruciale per le sorti dell'Europa ora questa dinamica non è frutto del caso è così perché è stata voluta poco più di due anni fa era il 22 agosto del 2016 appena dopo il voto per la Brexit tre leader europei dell'epoca Angela Merkel Matteo Renzi e François Hollande si recano insieme sull'isola di Ventotene a largo di Napoli e rendono omaggio alla tomba di Altiero Spinelli autore con Ernesto Rossi e con Eugenio Colorni del cosiddetto manifesto di Ventotene lo scopo era mostrare un intento comune nel fronteggiare i fattori di crisi in Europa nel 1941 come tutti voi sapete Spinelli Rossi e Colorni erano confinati nell'isola per la loro posizione al fascismo ridicolino il documento che a scadenze ricorrenti viene indicato come simbolo e come fondamento ideale dell'Europa unita nella visita a Ventotene dell'agosto di due anni fa Renzi richiama il manifesto Hollande indica Spinelli come uomo grazie al quale è nata questa idea e Merkel porta i fiori sulla tomba dei Spinelli devo dire che questa visita non ha portato molta fortuna perlomeno ai due terzi dei partecipanti e vedendo oggi qual è stata la loro sorte e la terza sopravvivente mi pare che qualche difficoltà ce l'abbia e devo dire che da meridionale mi perdoneranno le loro eccellenze nei miei criteri di scernimento ciò che porta bene e ciò che porta male a un certo peso non esclusivo ma insomma certamente condizionante Monsignor Toso nel suo volume fa lo dicevo una bella antologia dell'alternazione sociale della Chiesa degli ultimi tre pontifici io facendo la parte invece del cattivo vorrei fare una brevissima antologia di Ventotene vorrei leggere qualche stralcio di quel manifesto per capire se l'Europa di oggi si pone o meno in sintonia con quel documento non la faccio lunga chiunque voglia può ricavarlo e quindi cito veramente le cose essenziali virgolette la rivoluzione europea per rispondere alle nostre esigenze dovrà essere socialista chiuse virgolette virgolette più avanti la proprietà privata deve essere abolita limitata corretta estesa caso per caso non dogmaticamente in linea di principio e poi veniamo a discorsi potremmo dire dei giorni nostri il popolo ha sì alcuni bisogni fondamentali da soddisfare ma non sa con precisione cosa volere e cosa fare mille campane suonano alle sue orecchie con i suoi milioni di teste non riesce ad accapezzarsi e si disgrega in una quantità di tendenze in lotta tra loro c'è bisogno di prendere in mano la situazione come? nel momento in cui occorre la massima decisione audacia i democratici si sentono smarriti non avendo dietro uno spontaneo consenso popolare ma solo un torbido tumultare di passioni e qui viene il punto è testuale la metodologia politica democratica sarà un peso morto nella crisi rivoluzionaria oh il manifesto di ventotene dice questo la metodologia politica democratica è un peso morto e conclude il partito rivoluzionario quando i tre parlano di partito rivoluzionario fanno riferimento grosso modo a quel partito d'azione che sorgerà pochi mesi dopo il manifesto di ventotene e che è una sorta di partito laicista molto aggressivo che avrà fortuna soprattutto in immediato dopo guerra poi scomparirà ma non scomparirà l'influenza culturale all'interno della scena politica italiana partito rivoluzionario attinge la visione e la sicurezza di quel che va fatto non da una preventiva consacrazione da parte dell'ancora inesistente volontà popolare ma dalla sua coscienza di rappresentare la coscienza del partito le esigenze profonde della società moderna in cui c'è molto Lenin da in tal modo le prime direttive del nuovo ordine la prima disciplina sociale alle nuove masse attraverso questa dittatura del partito rivoluzionario dittatura del partito rivoluzionario si forma il nuovo stato e attorno ad esso la nuova democrazia che non è la nuova democrazia del libro di Monsignor Toso è una cosa un po' diversa e la democrazia su cui si fondano in larga parte le istituzioni europee e il loro funzionamento attingendo idealmente a Ventotene e non ad Adenauer a Schumann a De Gasperi alla dottrina sociale della Chiesa Luca Ricolfi che certamente non è un anti-europeista né ha simpatie potremmo definire populiste dice felicemente che se una critica va rivolta alle elite europee non è di aver tradito il manifesto di Ventotene ma semmai di averne recepito l'idea basilare ovvero il sogno che gli Stati Uniti d'Europa si potessero realizzare solo dall'alto e se l'Europa oggi patisce un deficit di rappresentanza e democrazia proprio perché si ispira più a Ventotene che a Schumann e a Dada e Naure poi la crisi di rappresentatività dipende anche da altri fattori non trascuriamo lo straripamento del potere giudiziario in danno del legislativo e dell'esecutivo lo dico da giudice in carica dirlo da giudice in pensione vale meno con sempre maggiore frequenza il Parlamento quando non è impegnato a recepire direttive comunitarie dà forma a ciò che già è un come dicono i legulei un arresto consolidato della giurisprudenza pensiamo alla legge sulle date che è la trasposizione enorme della sentenza su Eluano ne ha presi tra virgolette principi e li ha tradotti in norme ma quella sentenza di 10 anni fa la legge sulle unioni civili e la sacralizzazione parlamentare di ciò che prima avevano detto la cassazione della corte costituzionale e con sempre maggiore frequenza iniziative giudiziarie condizionano non soltanto il Parlamento ma anche l'azione di governo pensiamo alle decisioni dei Taro del Consiglio di Stato sulla realizzazione delle opere pubbliche ma il filtro di legalità sì ma quando il filtro di legalità che ci deve essere per carità si esaurisce poi non ci sono più i soldi per realizzare quelle opere o il costo dell'opera quindi tu hai comunque bloccato quell'opera e hai impedito che si realizzasse la politica ovviamente non deve prevaricare sul giudiziario ma uno sforzo per riequilibrare il quadro è indispensabile quando il capo dello Stato dice come ha detto ieri nessuno è al di sopra della legge nemmeno i politici nel nostro ordinamento i giudici non sono elettivi dice una cosa sacrosanta che però deve essere osservata da tutti perché è propria della politica la discrezionalità in virtù dei voti che si ricevono e quindi dei programmi che si confrontano e allora se vinco io invece che lui abbiamo programmi contrapposti nella mia discrezionalità politica c'è attuale il mio programma ma il giudice non ha discrezionalità politica eppure se leggete alcune sentenze su aspetti qualificanti della nostra vita nazionale le norme vengono inventate anche quando non ci sono anzi soprattutto quando non ci sono ora il deficit di rappresentatività e di democrazia provoca delle reazioni che oggi è di moda definire populismi io non ho difficoltà a riconoscere perché è una cosa evidente che spesso le forze politiche marchiate come populiste forniscono risposte semplicissime e inadeguate che guardano come giustamente è stato prima ricordato esclusivamente al presente ma spero che conveniamo tutti sul fatto che se le risposte sono tali le reazioni che si traducono nel consenso a quei partiti si basano su insoddisfazioni reali e la prima cosa da fare è decifrare la reazione non demonizzarla se un giornale esce con la copertiva va de retro con quello che segue stai demonizzando un fenomeno e ti rifiuti di comprenderlo comprenderlo non significa condividerlo significa capire perché c'è tanto più che oggi la critica contro il populismo è diventata critica più che oltre che verso le forze dette populiste nei confronti del popolo to court perché se leggiamo le dichiarazioni di personaggi autorevoli delle istituzioni soprattutto dell'Unione Europea e di chi fa il loro eco in Italia la sintesi che se ne ricava è che riferirsi troppo al popolo in coerenza con Ventotene è sbagliato perché fa correre il rischio che il popolo non avalli quello che vogliono le elite perché Cameron si deve dimettere perché ha fatto ricorso improvvidamente al popolo pensava di vincere e invece ha perso se non faceva ricorso al popolo non era obbligato a farlo era ancora il primo ministro qualcosa del genere è accaduto in Italia con un past presidente del consiglio ci sarebbe tanto altro da dire non solo sui meccanismi l'intralcio ma anche sui luoghi comuni presenti in sede europea ma io invece voglio avviarmi a conclusione perché il tempo è trascorso vorrei solo dire questo che chi all'interno della chiesa ha la vocazione del laico che è una vocazione come quella del sacerdote e del religioso deve convincersi però guardando al presente che l'alternativa non è tra un europeismo scusate un europeismo basato su ventotene e il cosiddetto populismo l'alternativa è tra ventotene quello che significa l'ideologia che rappresenta e la dottrina sociale cristiana da studiare nella consapevolezza che non fornisce soluzioni di dettaglio quelle che competono a chi ha responsabilità politica ma che dà qualcosa di molto importante da come più volte ha ripetuto e come viene ricordato nel libro criteri di giudizio da direttive di azione e non è poco in un momento di disorientamento come quello attuale concludo noi sappiamo bene che la dottrina sociale cristiana non inizia con la rerun novarum e che farla iniziare con la rerun novarum e un'operazione culturale riduzionistica non solo dal punto di vista cronologico ma anche dal punto di vista sostanziale dal punto di vista cronologico serve a dire che la chiesa si interessa ai problemi sociali solo dal 1891 e quindi prima se ne è disinteressata mi veniva un altro termine e quindi va sanzionata per questo dal punto di vista contenutistico se tu hai aperto questa finestra di interesse solo dalla fine dell'ottocento vuol dire che ti sei interessato solo della questione operaia che poi era il tema centrale non l'unico della rerun novarum sappiamo che non è così perché se apriamo la mente e respiriamo a pieni polmoni l'ossigeno che ci dà la dottrina sociale della chiesa la dottrina sociale cristiana ci accorgiamo che c'è sempre stata ce ne sono tracce importantissime nel nuovo testamento ma scusate quando il nostro signore di fronte a pilato gli dice non avresti nessuna autorità se non ti fosse stata data dall'altra è o non è un fondamentale insegnamento di dottrina sociale della chiesa e quando san giovanni battista i soldati che vanno da lui gli chiedono consiglio ma noi che cosa dobbiamo fare gli dice siate contenti della vostra paga e o non è un'affermazione importante di dottrina sociale della chiesa da cui derivano tante conseguenze sulla difesa sulla legittimità e anzi doverosità della difesa del territorio delle istituzioni e così via e perfino nel vecchio testamento si trovano importanti insegnamenti di dottrina sociale della chiesa mi permetto nell'ultima citazione che faccio di leggere Genesi capitolo 11 versetto 1-9 nella versione della conferenza episcopale italiana poi vi dirò non è il caldo che sta dando la testa ma vi dirò cosa c'entra con l'Europa tutta la terra aveva una sola lingua e le stesse parole emigrando dall'Oriente gli uomini capitaravano in una pianura nel paese di Senar e vi stabilirono si dissero l'un l'altro venite facciamo mattoni e cuociamoli al fuoco il mattone servì loro da pietra e il bitume da cemento poi dissero venite costruiamoci una città e una torre la cui cima tocchi il cielo e facciamoci un nome per non disperderci su tutta la terra ma qui c'è la svolta nella storia il Signore scese a vedere la città e la torre che gli uomini stavano costruendo il Signore disse ecco essi sono un solo popolo hanno tutti una sola lingua questo è l'inizio della loro opera e ora quanto avranno in progetto di fare non sarà l'oro possibile scendiamo dunque e confondiamo la loro lingua perché non comprendono più l'uno la lingua dell'altro il Signore li disperse di là su tutta la terra ed essi cessarono ricostruire la città per questo ora si chiamò Babele perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra e di là il Signore li disperse su tutta la terra c'è un esegesi molto veloce di questo brano gli uomini peccano di orgoglio perché hanno osato costruire qualcosa che arrivava a Dio e per punizione Dio confonde le loro lingue e impedisce loro di proseguire il lavoro diciamo che più che un esegesi veloce è un esegesi banale di chi la Sacra Scrittura la legge come leggerebbe un settimanale uno studio più attento che attinge anche a fonti ebraiche provenienti soprattutto dal Midrash permette una riflessione più articolata sulla vicenda della Torre che nella descrizione ebraica è una costruzione enorme che va avanti per 43 anni raggiungendo l'altezza di 10 miglia dopo lo scavo profondo delle fondamenta le donne sono addette a fabbricare i mattoni e gli uomini sono incaricati di appoggiare i mattoni l'uno sull'altro senza rallentare il ritmo del lavoro la realizzazione non conosce soste se una donna è colta da doglie si allontana dal cucinare i mattoni il tempo necessario per mettere al mondo il figlio poi si mette il figlio al collo e riprende a produrre mattoni e si arriva al punto che ci vuole più di un anno per arrivare in cima alla torre per portare ciascuno il proprio mattone e un anno per scendere nel racconto di Babbele sia nella relazione della conferenza episcopale che in quella ebraica non compare il nome di un solo protagonista di questa iniziativa a differenza di quello che solitamente accade negli episodi biblici è segno che l'opera a cui gli uomini lavorano è diventata più importante di chi la realizza narra una tradizione ebraica che se un uomo si feriva o cadeva dall'altezza alla quale si trovava nessuno ci faceva caso ma se si rompeva o andava perduto un mattone tutti piangevano perché sarebbero dovuti trascorrere più di due anni tra salita e discesa per recuperare quel mattone i mattoni valgono più delle persone l'impresa prende il sopravvento e diventa l'idolo sul cui altare sacrificare anche l'essere umano l'importante come si dice all'inizio è farsi un nome che è un nome collettivo non proprio e assumere una identità collettiva alternativa a quella del creatore al siate fecondi e moltiplicatevi che la consegna verso una dimensione orizzontale di popolazione della terra va bene e contrappone il venite costruiamo una torre e leviamoci verso l'alto in quest'ottica l'intervento di Dio più che l'intervento di un soggetto vendicativo che a un certo punto dice adesso basta gliela faccio pagare è un gesto di misericordia perché certo Dio umilia l'uomo lo disperde lo impedisce di completare la sua opera ma lo fa per ricondurlo alla terra e alla propria realtà umana per farlo tornare in se stesso l'intervento di Dio risveglia gli uomini dalla frenesia della macchina e li costringe a pensare a muoversi sulla terra su quella terra che avevano ricevuto in dono col mandato di Popolare allora perché e concludo veramente richiamo Babele avendo fino a qualche istante fa parlato di Europa perché i mattoni della costruzione europea sulle fondamenta di Dentotene hanno finito per realizzare una macchina che funziona a prescindere dalle esigenze dei popoli europei una macchina che parla la lingua unitaria di burocrazie che non affrontano i problemi reali e gli esempi li abbiamo fatti che creano ostacoli allo sviluppo dei popoli richiamando genericamente il rispetto di regole che appaiono immutabili e neanche soggette a discussione lo vuole l'Europa punto fine non si apre neanche il discorso e questo richiamo fa danni enormi pensiamo a come è stata ridotta la Grecia che cosa sarebbe cioè ci sarebbe voluto veramente poco per salvare la Grecia 10 milioni di abitanti rispetto a 500 milioni di europei nel momento in cui è sorta la crisi e pensiamo a come è stata ridotta per farla rientrare nei parametri pensiamo alla circostanza che larga parte dei fondi europei per lo sviluppo rimangono non utilizzati allora o siamo scemi tutti o siamo tutti incapaci oppure c'è qualche problema di meccanismo un po' troppo stretto che va rivisto come vanno riviste tante altre cose Dublino e così via sembra che la macchina della Babela europea sia più importante di chi la realizza e dei popoli cui dovrebbe servire nella sacra scrittura si è soliti contrapporre a Babela e la Pentecost la predicazione degli apostoli che ricevono lo spirito santo e lo sappiamo comprensibile da tutti i presenti nonostante provengano da aree differenti e parlino lingue diverse a Gerusalemme il giorno di Pentecost non c'erano le cabine di traduzione simultanea perché non servivano la Pentecost in qualche modo supera la necessità di tradurre ciascuno comprende nella propria lingua perché la verità sull'uomo dell'annuncio della Pentecost è ciò che realmente unifica lingua unica non in quanto unica lingua come a Babela ma in quanto lingua dell'unico e lingua dell'unico in quanto lingua di verità sull'uomo e sul suo destino e allora quell'alternativa posta all'inizio dottrina sociale della Chiesa versus Ventotene in realtà è la declinazione contemporanea dell'alternativa Pentecost versus Babele e come insegna San Giovanni Paolo II non si potrà mai costruire una vera nuova democrazia se non partendo dalla verità sull'uomo esplosa nel giorno della Pentecost vi ringrazio grazie all'onorevole Mantovano colgo l'occasione anche per ringraziare ovviamente il comune di Parma che ci ospita in questa bellissima sede e location grazie all'assessore Linovi che ha avuto modo di presenziare qui con noi nel capitolo quinto su eccellenza sicuramente cita il tema dell'università come possibile sicuramente leva da sfruttare per puntare ad una democrazia inclusiva abbiamo l'onore oggi di avere fra i relatori addirittura ben due rettori emeriti in particolare il professor Lorenzo Ernaghi rettore emerito dell'università cattolica del Sacro Cuore per oltre e forse più di dieci anni ma con all'attivo anche un'esperienza importante di governo con il ruolo di ministro della cultura e senza dubbio quindi una formazione può aiutare c'è un'importanza nella formazione affinché si possa comunque cercare ambire ad un miglior avvenire non soltanto per le future generazioni ma anche per per chi poi un domani sarà sostanzialmente il cittadino del mondo o comunque l'amministratore che verrà per cui ringrazio anch'esso della presenza e cedo la parola al professor Lorenzo Ernaghi grazie grazie ringrazio anch'io dell'invito il intesa San Martino al presidente saluto i relatori tutti saluto in particolare il pubblico devo dire paziente evidentemente molto interessato paziente rispetto al caldo e paziente rispetto ma su questo cercherò di darvi una mano allo stravolgimento delle sane abitudini padane perché qui la cena viene fatta slittare verso mezzanotte quindi verso più usanze che caratterizzano il meridione che non noi quindi sarò contenuto davvero nella mia esposizione per un quarto d'ora confidando che non ci sia un secondo giro perché sono davvero andremo andremo a notte e quindi davvero ringrazio il pubblico e mi chiedevo proprio pensando a voi che siete qui presenti perché si viene una presentazione che cosa ci interessa al di là del tema specifico perché le presentazioni di un libro sono certamente importanti sono importanti nelle aule universitarie si presenta tra colleghi si parla ma è un linguaggio criptico che ci identifica come corporazione quando sono aperte alla città c'è un argomento un tema che è rilevante il tema è stato è anche nel titolo del volume di Monsortoso la democrazia Sottoso dice la nuova democrazia potremmo tradurlo le sorti della democrazia che cosa ci aspetta che cosa aspetta le generazioni successive che cosa ne è di questo tipo di democrazia e questo credo sia forse la domanda su cui inizialmente a partire dal volume di Monsortoso riflettere per poi per rispondere alla cortese domanda del presidente Coppola fare io una sorta di ma come si dice esame di coscienza si adappara ancora questa espressione forse avendo il vantaggio di essere in quella condizione che è un termine italiano non così bello che è quella di quiescenze quindi non potendo fornire del coraggio che ha avuto invece essendo ancora perfettamente funzionante in ruolo l'onorevole Mantovani rispetto a ciò che fanno a ciò che dicono alcune sentenze e allora constatazione iniziale si stanno davvero infittendo i lavori sulla democrazia 30 o 40 anni fa un giovane studente Roberto non occuparti di questo tema della democrazia delle sorti della democrazia la democrazia è il regime politico che ha vinto dopo l'89 ancora di più sembrava aver vinto è se non il regime politico migliore certamente il preferibile o secondo le note definizioni il meno peggio è come se le sorti dell'umanità per sempre siano affidate al trionfo della democrazia così non è così non è perché come tutti i regimi politici nascono crescono e molto probabilmente declinano o comunque si trasformano e le trasformazioni di quella che accademicamente in maniera precisa si chiama la democrazia dei moderni non a caso si chiama così è la democrazia di una certa fase della modernità europea dal 1700 in poi ha fatto bene l'onorevole mantovene a dire c'è una distanza siderale fra le definizioni belle dei filosofi greci e quel che poi è stata la democrazia ma anche rispetto a quella democrazia di poco più di 200 anni fa i nostri regimi democratici sono diversi sono differenti sono per alcuni aspetti dei regimi la democrazia è per alcuni aspetti un po' tarda cioè come anche gli organismi umani invecchia è tarda perché ha tardata probabilmente in qualche caso non ha fatto le dovute cure per cercare di essere come dire sana anche durante la longevità c'è il problema ricordato drammatico per alcuni aspetti della tripartizione dei poteri qualche potere appunto diventa pervasivo rispetto agli altri l'equilibrio tra i poteri la perfetta separazione è solo un mito è cambiato e arrivo al punto del volume di Monsignor Toso la stessa idea di cittadinanza nelle prime forme democratiche della nascente democrazia dei moderni cittadini non erano così tanti i diritti che avevano non erano così tanti i diritti erano ancora fondati sull'esistenza di cui tutti erano convinti di un diritto naturale non erano diritti come aspettative generalizzate per cui in dieci pensiamo di avere questo diritto che in realtà è un'aspettativa e viene stabilito che sia un diritto e siamo ben lontani da quei 200 e passa anni fa le istituzioni si sono usurate il rapporto dei cittadini con la democrazia cioè con le istituzioni della democrazia ma il rapporto dei cittadini con la politica si è soprattutto in questi ultimi decenni profondamente modificato perché ed è questo un punto di osservazione credo molto rilevante per recuperare poi tutta una serie di riflessioni che si fanno in particolare fra i cattolici parlare degli affanni o dei malanni o della situazione periclitante della democrazia significa di necessità parlare degli affanni del malessero della condizione periclitante della politica le due cose tendono ad essere molto simili se non identiche perché ormai per decenni siamo stati abituati a pensare che la politica è o ipso perciò stesso il massimo della democrazia della politica e la politica non può che essere democratica e questo è un altro elemento che è diventato un luogo comune di pensiero su cui riflettere ma adesso mi interessa solo cercare di sottolineare come riflettere sulla democrazia significa riflettere sulle condizioni attuali della politica e qui allora interviene l'architettura del libro di Monsignor Toso il quale soprattutto ha come categoria potremmo dire fondamentale o criterio o idea insomma principe quella di inclusività come molti autori che studiano la democrazia anche Monsignor Toso dice ma di fronte a questa situazione che non ci piace negativa per molti aspetti quale dovrebbe essere la democrazia non solo quale potrebbe essere ma quale dovrebbe essere qualcuno direbbe interviene appunto l'aspetto deontologico il dover essere della democrazia io appartengo a una scuola di pensiero che non fa quasi mai deontologia ma capisco e anzi ritengo doveroso che molti in particolare i preti facciano la deontologia ci mancherebbe il laico sanamente poi intanto fa più il realista che non il sostenitore della deontologia che cosa dovrebbe essere questa nuova democrazia è una democrazia dice Monsignor Toso e argomenta correttamente che ci consente di passare dall'attuale regime democratico un po' tutte le democrazie dell'occidente la nostra italiana in particolare che sono a bassa intensità a una democrazia invece che sia ad alta intensità cioè una democrazia e qui e dopo un aggettivo tanto bello soprattutto fra i sociologi devo dire io vengo dalla politologia sono un po' più semplesitante che è l'inclusività cioè è una democrazia inclusiva cosa vuol dire includere si include e questo è evidente chi è escluso e quindi bisogna fare la categoria di quelli che sono al momento temporaneamente esclusi e pensare che cosa significa includere ma è dell'aspetto invece più interessante rispetto all'oggi molto spesso anche chi apparentemente è incluso è di fatto escluso e quindi l'inclusività della democrazia da realizzare dovrebbe includere coloro che apparentemente inclusi sono esclusi e qui c'è tutta una lunga tradizione di pensiero ma è solo una notazione in questo caso accademica al rettore merito della Università Salesiana c'è una lunghissima tradizione che è quella della cittadinanza anche qui potremmo ripetere ciò che l'onorevole Mantovani diceva e quindi il concetto di polites il cittadino greco o il civis romano appunto perché dice civis romano un cittadino nessuno mi tocca e il mutamento del concetto di cittadinanza a partire dal Medioevo e soprattutto l'elezione francese quindi in qualche modo l'inclusività si attacca ma allo stesso tempo trasforma quella che è stata un'idea che ha caratterizzato l'intero occidente che per esempio Pietro Costa studiante di almeno quattro volumi e mezzo che non sono una robina da poco per un accademico ma qui andremmo per vie accademiche abbastanza come dire specialistiche mi interessa di più sulla base di questo meritorio sforzo di di dire ma verso quale democrazia andiamo dove se usciamo un po' delle come dire formulazioni garbate dei professori o anche dei magistrati alla fine Monserottoso dice l'ha detto anche un po' molto elegantemente la dottrina sociale della chiesa è un segreto ben custodito ben custodito ma il custodito non saprà o meglio se gli strumenti per custodirlo bene sono strumenti non così buoni non saprei dire ma certamente in quella domanda c'è ma come mai i cattolici non si sta muovendo perché appunto tengono la dottrina sociale che parta dal nuovo e antico testamento che parta da poco prima del storicamente 1891 è problema rilevantissimo ma non ci tocca adesso ma la domanda sottesa a tutto il libro di Monserottoso credo sia verso questa nuova democrazia chi ci va chi la costruisce chi la fa chi ci lavora e così in questa fase di spaesamento generale di tutti i cittadini inclusi o esclusi e nel disorientamento generale dei cattolici è chiaro che la domanda si pone e allora arriva la domanda che mi faceva il presidente e quindi il mio esame personale di coscienza e quindi la mia particolare assunzione di responsabilità non so se il filo fin qui è abbastanza chiaro arrivo alla seconda parte allora cioè che cosa si deve fare per termine adoperato educare non tanto alla democrazia soprattutto se malauguratamente c'è un'idea retorica convenzionale o da manifesto di ricordato di ventotene di democrazia ma come educare a una sana autentica democrazia come educare la democrazia così come delineata dall'ottima sociale della chiesa come educare visto che democrazia e politica oggi condividono le stesse sorti alla politica questo è la premessa del mio esame di assunzione di responsabilità e quindi del riconoscimento dei difetti che o delle omissioni che sono state fatte in questi decenni i preti e i vesco poi faranno le loro ecco però io faccio le mie da laico sulla base di un corollario che è e anche questo è stato detto molto giustamente l'educazione richiede tempo e certo conveniamo tutti solo che non abbiamo più tempo se si vuole una presenza cattolica dentro la collettività se si vuole che i cattolici contribuiscono e non in maniera periferica alla realizzazione del bene comune non c'è molto più tempo perché fra poco si sparisce e si sparisce per sempre o comunque per parecchi secoli o parecchi decenni voglio essere vietato che cosa è stato fatto e che cosa si deve fare io credo si deve partire dalle grandi difficoltà che noi oggi abbiamo ma che fatichiamo a riconoscere e elenco solo due tipi di grande difficoltà la prima le parole le parole che noi adoperiamo per educare le parole che adoperiamo con i giovani sono parole usurate sono parole fruste allora a quello un po' più anziano le parole suonano ne elenco qualcuno solidarietà anche bene comune cioè se non è spiegato e collocato dentro un contesto reale dell'oggi suona vuota perché l'abbiamo sentita talmente volte è sorda è una campana sorda diventa persino irritante e allora il grande problema che ha l'educatore rispetto al giovane è quello di dire che parole adopero che parole gli dico che parole che non siano appunto parole ormai che fanno parte di un vocabolario politico di un lessico politico che il giovane non capisce più non sente più non gli interessa più e arrivo al tema il mio giudizio più importante su cui appunto noi come educatori io come educatore siamo stati o fallimentari o abbiamo omesso alcune cose che erano pur sotto il naso e quindi dovevamo fare giustamente noi diciamo Luciano crisi ma al ventenne che ovviamente non si ricorda mica dieci anni prima cioè fino a dieci anni dire crisi crisi per noi è crisi perché abbiamo un elemento comparativo chi ha una certa età lei è ancora giovane io ce n'ho di più ce n'ho come le sue eccellenze e certo uno pensa trent'anni prima e ha l'idea che la crisi le cose sono cambiate ma il ventenne non è pure che ha cambiato niente quindi si dice siamo in crisi no no io ho delle difficoltà non siamo in crisi non siamo in una crisi di sistema politico ho il problema di trovare il posto di lavoro ho il problema che l'università non mi illuda nel dire tu avrai un lavoro una competenza invece non ce l'ho ho il problema dei rapporti amorosi e così via ha una serie di problemi anche forti ma non ha la percezione della crisi la crisi è un'immagine vera o meno vera nostra soprattutto quindi partire dalla costruzione di una crisi al giovane visto che dobbiamo educare il giovane dice poco e questo è il primo grande tema su cui riflettere che parole ad operare non per dar conto di una crisi ma quali parole ad operare per dar conto di un futuro che è talmente incombente da essere già parte del nostro presente anche per i giovani ventenne e questo è il dato di fatto il futuro avanza solo non è un futuro che abbiamo che abbiamo là e allora qui davvero entra in campo in tutta la sua problematicità davvero difficoltà tema evocato richiamato e come titolo richiamato nel saluto di cui ringrazio non convenzionale il presidente della fondazione Caripal ma e soprattutto di un altro meccanismo su cui giustamente mi sono Gandolfi ha messo l'accento è del tema dei valori anche qui se però non riusciamo a far capire i valori davvero cosa sono perché i valori sono importanti nella rete dei rapporti interindividuali sociali e poi nella politica ma soprattutto ecco il tema che il presidente portava alla nostra attenzione che è fondamentale e su cui a mio giudizio abbiamo mancato o fallito o siamo stati omissivi come educatore forse anche come preti è quello della trasmissione perché il valore in sé finisce se non viene trasmesso e allora il tema della trasmissione è il tema addirittura precondizionante la domanda su che tipo di educazione alla democrazia che tipo di educazione alla politica vogliamo dare se non capiamo prima qual è il meccanismo della trasmissione noi fino adesso abbiamo affidato la trasmissione agli eventi chiamiamoli così biologici sociali da nonna io non ho avuto neanche uno dei quattro nonni la mia trasmissione è stata fatta dai miei genitori ma c'era qualcuno che trasmetteva adesso chi trasmette il sociologo direbbe adoperando un termine bruttissimo quali sono le agenzie che trasmettono allora se noi siamo realisti e non deontologici la scuola non trasmette più ma nemmeno le scuole cattoliche in gran parte non voglio generalizzare le università trasmettono non do la risposta pubblica faccio la domanda compresa l'università cattolica trasmettono i valori o ci limitiamo a denunciarli il passaggio fondamentale è dall'enunciazione dal richiamo dall'evocazione appunto la trasmissione ed è il primo grande ordine di difficoltà su cui forse siamo stati inadeguati nel cercare di risolvere la seconda è nell'idea stessa di democrazia per un certo verso ma lì devo dire mi associo subito anche per azioni di tempo qualche letto nel senso che lo condivido ma sull'idea di politica sull'idea di politica per molto piacere ho ascoltato il richiamo a Sofia Vanni Rovighi che insegnava e ha insegnato bene a Mons. Ottoso nessuno più legge di Sofia Vanni Rovighi in Italia stanno cercando disperatamente di ma ce la fanno a tradurla in russo anche questo è un significato che se i russi interessassero e meno gli italiani forse ma certamente lì in quell'ambito in quell'ateneo quelle persone da Giamelli almeno a Vanni Rovighi e Bontadini avevano un'idea di politica che poi non c'è stata che non è più stata trasmessa la politica non è salvifica cioè la politica non sostituisce l'attività redentiva che è tipica di un'altra cosa e per tanti decenni e in tanti modi in tanti rivoli in tanti modi di pensare certo che la politica deve migliorare non ci sarebbe stato tutto lo sviluppo storico che c'è stato se delle classi politiche delle persone intelligenti una serie di persone attorno a queste la provvidenza per chi crede o la fortuna peraltro non è il compito della politica proporre un miglioramento ma non la salvezza noi veniamo da decenni e in modo particolare da questa concezione che la politica ci salva addirittura deve salvare quelli che non sono cristiani prima poi se salva anche i cristiani va bene però deve prima salvare gli altri non va bene non dobbiamo insegnare questa cosa qui dobbiamo insegnare una buona sana dose di realismo rispetto ai problemi della politica e della democrazia questo credo sia il secondo drammatico ordine di problemi e rispettando le mie premesse che non voglio farvi mangiare a mezzanotte c'è un tema anche qui emerso che è fondamentale credo che molto opportunamente sia stato richiamato anche qui è molto utile la silloge l'antologia la scelta di documenti del Magistero Social che ha insomma dei tre ultimi pontefici fatta da Monsignor Toso e certamente ho molto apprezzato diciamo certamente è importante in questo lavoro di educazione e formazione tenere presente quello che è già stato detto richiamato e su cui il Papa lui si davvero emerito Ratzinger ha molto insistito e cioè la verità c'è un passaggio qui chiudo della carità sin verità credo sia sì carità la carità quindi la carità in tutte le forme di carità ma ovviamente dentro la carità c'è l'amore il Papa si chiede ma la carità senza la verità si scivola nel sentimentalismo potremmo dire si scivola in tante cose che non sono la verità e lo stesso vale nell'educazione nella democrazia nella politica se tutto è uguale a tutto non si capisce più su che cosa si deve lavorare si deve lavorare allora credo che forse ed è l'ultimo davvero elemento di questi due grandi problemi rimasti risolti su cui dobbiamo lavorare sia questo che d'altra parte emergeva con grande chiarezza dove dove la verità è in politica e torna allora e la distinzione sottile di Sofia Vanni Rovighi e la necessità che la verità ci sia perché alla fine anche per noi cattolici se non siamo noi convinti non convinciamo ma se non siamo convinti nemmeno vinciamo e la politica non è fatta per star lì a guardare dalla periferia o ai limiti estremi ma nel limite è possibile e in nome di una causa cercare di vincere ecco questo credo sia un po' il messaggio che andrebbe fatto in termini di chiamiamo la formazione diciamo educazione comunque rispetto ai giovani che questa domanda ce l'hanno perché è davvero qui chiudo quando dice l'apatia è vero fino a un certo punto perché se uno si spiega bene o si cerca di spiega bene cosa è la politica l'attenzione e anche l'attrazione per la politica c'è altrimenti avremmo l'altro luogo comunissimo convenzionale del conformismo dominante per cui c'è l'apatia per la politica dove troviamo folle di persone che pur di non lavorare o di non lavorare in maniera faticosa sono lì ad aspettare i posti della politica o a fare politica loro stessi questa è l'altra faccia della democrazia e certamente è una faccia preoccupante grazie grazie a professor Ornaghi abbiamo credo sforato ogni orario e ogni previsione io avevo una domanda al volo a sua eccellenza da poter fare se mi concedete un minuto io perché il minuto è nella risposta poi dopo ossia dopo aver letto l'esortazione apostolica dell'Evangelii Gaudium volevo chiederle vi è una dimensione sociale della fede? il capitolo quarto risponde chiarissimamente a questa domanda e anche motiva questa dimensione sociale della fede dicendo se io professo Dio padre scopro di avere dei fratelli se io professo il figlio di Dio che si è incarnato scopro che Dio è presente nei fratelli e che devo amarlo nei fratelli dimensione sociale se poi io professo la trinità scopro che io sono ad immagine della trinità e il fine della mia vita è quello di vivere non solo per l'altro ma in comunione con gli altri quindi solo anche considerando i fondamenti della nostra fede quei fondamenti che professiamo noi evidentemente dobbiamo riconoscere la dimensione sociale della nostra fede purtroppo questo non avviene sovente e notiamo come già a suo tempo San Giovanni XXIII diceva si verifica un male grande nel mondo culturale e nel mondo diremmo sociale che colpisce i credenti ed è la separazione tra fede e vita cioè noi abbiamo una fede che ci proietta nel sociale nella comunione al servizio del bene comune per cui possiamo anche dire tenendo conto del fatto che noi siamo inseriti in Cristo che è venuto a richepitolare in sé tutte le cose che noi abbiamo anche una vocazione cristiana al bene comune ecco pur avendo queste grandi ragioni fondamentali di impegno noi ci impegniamo nella politica senza tener conto di queste motivazioni fondamentali che sono decisive per la loro robustezza ideale e morale e spirituale per cui appunto quel capitolo lì capitolo quarto del Vangeli Gaudium a mio modo di vedere è fondamentalissimo proprio per aiutare anche noi oggi che siamo per così dire colpiti dallo stesso male di cui parlava San Giovanni XXIII ai tempi della Mater Magistra ecco per superare questa separazione fra fede e vita uno dei motivi per cui l'impegno dei credenti nella politica ha mostrato difficoltà è proprio questo che non c'è collegamento delle loro scelte di vita politica con il contesto di fede che normalmente si suppone vivano non c'è collegamento anzi c'è contraddizione ma palese netta per cui non è detto che noi nel mondo politico dobbiamo semplicemente calare le verità cristiane nel Parlamento ma dobbiamo perlomeno tentare di tradurle il più possibile nel gioco della maggioranza tradurle il più possibile ecco in linguaggio legislativo in punto di riferimento insomma per l'azione per le politiche naturalmente tutto questo cosa presuppone adesso vado a sintetizzare presuppone che i credenti siano presenti adesso io non dico parlando con un linguaggio semplicemente quantitativo ma siano presenti un certo numero perché la legge della maggioranza che è una delle leggi procedurali della democrazia non è una legge insignificante è una legge superflua e così via è una legge fondamentale della vita democratica noi riusciamo nel gioco politico confrontandoci anche con chi la pensa in maniera diversa ecco sul piano della ragione confrontarci e poter iscrivere nei progetti di legge determinati i valori in cui crediamo assieme agli uomini di buona volontà anche se siamo in un certo numero certo noi in questo momento non credo che siamo maggioritari non credo proprio però non bisogna rinunciare a una presenza anche minoritaria ben qualificata e ben orientata sulla base della dottrina sociale della chiesa sulla base anche di un tessuto comunitario di un nuovo movimento sociale che vede in rete associazioni movimenti di ispirazione cristiano cattolici perché senza questa rete non si esprimono nuove rappresentanze molto difficile molto molto difficile e quindi bisogna anche lavorare alla base come ha suggerito la settimana sociale dei cattolici di Cagliari con riferimento ad esempio al tema del lavoro prendendo lo spunto proprio dell'Evangelicano lavoro creativo solidale partecipativo eccetera eccetera più che parlare di questo tipo di lavoro certo bisogna parlarne ecco operare perché ci siano nuove opportunità di lavoro e questo è possibile mettendosi insieme mettendosi in rete quindi avere dei progetti ecco e sono questi che coagulano le forze e i soggetti perché alle volte appunto noi diciamo incominciamo una nuova presenza un nuovo impegno ma il comando viene dall'alto non è così che funzionano normalmente le cose forse in certi periodi di estrema insomma necessità ma in una piena maturità della fede dei credenti ecco le cose devono nascere dal basso attorno a dei progetti che sono possibili conoscendo bene la realtà e qui ci vuole la formazione la cultura spesso i nostri intellettuali sono piuttosto assenti dai discorsi che il mondo cattolico fa intorno ai problemi della politica dell'economia ecco e illuminati dalla dottrina sociale della chiesa da cui principi di riflessione dei criteri di giudizio e orientamenti pratici di cui si diceva prima qualcosa a proposito di questo l'ho trovato scritto in quel volumetto che è lì in fondo che è fresco di stampa cattolici e politica ho osato mettere questo titolo sapete perché dico ho osato perché usare il termine cattolico oggi è divisivo e nonostante tutto io penso che dobbiamo usarlo vero? non so suppongo e quindi vedete lì che cosa lì anche lì in cui non si dice vota per questo partito per quest'altro per quell'altro no si dicono le condizioni per cui uno si impegna bene secondo una propria identità secondo un concetto corretto di laicità secondo una progettualità e così via nella politica basta così perché se no grazie a Monsignor Toso e grazie a tutti voi che con dedizione siete rimasti con noi fino all'ultimo nonostante il fresco di questa sala e nonostante l'ora per cui una buona serata a tutti grazie ancora ai relatori e alla prossima edizione che dire vi ricordo il libro in fondo in vendita per chi fosse interessato una buona serata ancora grazie a tutti ieri grazie a tutti ieri grazie a tutti ieri grazie a tutti ieri grazie a tutti ieri